Quali sono i vantaggi dei cerotti trasdermici nel trattamento del dolore acuto? I cerotti sono uno degli strumenti che vengono impiegati come prima scelta terapeutica nel trattamento del dolore acuto locale. E hanno dei vantaggi, si individua l'area che duele e su quell'area si porta il farmaco. Questo non è un vantaggio da poco. Perché i cerotti? Perché sono comodi da applicare, perché non vengono ingeriti. Molte persone non amano ingerire farmaci, soprattutto farmaci antidolorifici, antinfiammatori, per paura degli effetti collaterali, che sono molto minori con l'applicazione del cerotto. E ancora perché il cerotto ha la caratteristica di rilasciare il principio attivo, la sostanza contenuta, per un periodo di tempo prolungato. Quindi è indicato nel trattamento in continuo, 12 ore, spesso il tempo necessario per rilasciare questa sostanza.